Come se tu fossi l'unica luce a dare un senso e questa vita con te è un capo lavoro Benvenuti alla Buona Notizia, l'approfondimento settimanale curato dal centro di Ocesano delle comunicazioni sociali In studio con noi benvenuto Padre Domenico Fidanza Grazie per l'invito Padre Domenico è responsabile del servizio per le persone con disabilità Responsabile da pochi mesi, era appunto il dicembre 2023 Poi chiederemo a lui di raccontarci in cosa consiste questo servizio importante a livello di Ocesano Partiamo ora dalla copertina del nostro settimanale, una copertina dedicata ai giochi olimpici Iniziano il 26 luglio, sono 13 bresciani in gara, alcuni hanno grandi speranze e grandi aspettative anche di conquistare delle medaglie Pensiamo solo al nostro Marcel Jacobs nell'Atletica per fare un nome I giochi sono anche per tradizione un'occasione per rimettere al centro il tema dello sport E magari accantonare come succedeva un tempo le guerre, le tante guerre che alimentano il nostro territorio Veniamo ora quindi al nostro ospite Padre Domenico, paroco anche della parrocchia delle Due Sante in città Padre Domenico, il Vescovo Piero Antonio ti ha affidato questo incarico, questo servizio lo scorso dicembre Come stanno procedendo questi primi mesi e su cosa ti stai concentrando? Il Vescovo Piero Antonio mi ha affidato il servizio il 3 dicembre 2023 Nella giornata internazionale delle persone con disabilità Raccolgo l'eredità preziosa di Don Roberto Lombardi che ha seguito questo servizio all'interno della nostra diocesi E il Vescovo mi ha chiesto di rendere a livello trasversale questo servizio Non più legato soltanto all'esperienza della catechesi ma in comunione con un legame con tutti i vari settori e le aree pastorali della nostra diocesi Quindi un servizio che si occupa delle persone con disabilità nei vari aspetti Il lavoro che stiamo facendo è un lavoro ad intra di collaborazione ma anche di conoscenza reciproca Con i vari direttori delle tre aree e le varie equip di lavoro E poi un lavoro ad extra proprio sui nostri territori perché c'è tanto bene che si fa per le persone con disabilità Il primo lavoro importante è imparare a conoscere Quindi sto iniziando anche a girare all'interno del territorio della nostra diocesi per conoscere il tanto bene che c'è Ma nello stesso tempo non vuole essere un servizio o un lavoro soltanto per le persone con disabilità Ma con le famiglie e poi imparare a far sì che tutte le nostre comunità cristiane possano diventare delle comunità capaci di accoglienza Di amicizia solidale e di fraternità Grazie padre Domenico nel primo servizio di questa settimana siamo andati a ospitaletto al teatro a Gorà Per ascoltare la testimonianza della storia di padre Pino Puglisi Upparrinu con Cristian Di Domenico che ha messo in scena uno spettacolo teatrale all'interno delle celebrazioni In preparazione alla festa di San Giacomo Perché Cristian Di Domenico? Perché la madre di Cristian Di Domenico ha avuto padre Puglisi come padre spirituale E qui in questa storia, in questa testimonianza esce tutto il ritratto di questo sacerdote che ha pagato con la vita il suo impegno per il Vangelo Beati i perseguitati a causa della giustizia Venerdì 12 luglio al teatro a Gorà di Ospitaletto è andato in scena lo spettacolo teatrale di Econ Cristian Di Domenico Upparrinu, la mia storia con padre Pino Puglisi ucciso dalla mafia E' la mia storia con padre Pino Puglisi Io ho avuto la fortuna e il privilegio di conoscerlo grazie a mia mamma che è siciliana E che è stata cresciuta da lui come un padre Sicuramente un padre spirituale, una guida, il suo confessore Poi anche il suo insegnante di religione quando ha fatto le magistrali Ha sposato i miei genitori, era spesso ospite a casa nostra Quindi il tono del racconto è molto intimo, molto familiare E' il mio modo di celebrare e onorare la sua memoria L'autore ha conosciuto personalmente Don Pino grazie a sua madre, siciliana Che l'ha avuto come guida spirituale Quando aveva qualche giorno libero, Puglisi lo trascorreva con la famiglia dello stesso Cristian Era di una estrema simpatia, oltre che di una grande semplicità e umiltà Però era un grandissimo ritardatario Allora l'aneddoto che racconto anche durante lo spettacolo è questo Lui spesso diceva così per dare un appuntamento Allora facciamo così, l'appuntamento è alle 9 Io dovrei arrivare alle 10 Se alle 11 non sono ancora arrivato, tu a mezzogiorno te ne puoi andare La serata era inserita nelle celebrazioni della comunità In preparazione alla festa di San Giacomo Rientriamo in studio, abbiamo ascoltato la testimonianza dedicata a padre Pino Puglisi Ucciso dalla mafia Padre Domenico, continuiamo a parlare del servizio per le persone con disabilità C'è da dire che c'è un'attenzione nei confronti della disabilità Sempre più importante anche da parte delle istituzioni Sappiamo anche che la città di Brescia e altre città sono diventate anche amiche della disabilità Se parliamo di disabilità dobbiamo parlare necessariamente anche di inclusione A che punto è e come sta procedendo anche il tavolo Il passaggio sulle comunità amiche della disabilità è tutta la Valle Camonica che ha ricevuto questo marchio E adesso c'è proprio in campo un'esperienza di ricerca su Brescia città e Colle Beato Che presto riceveranno il marchio di comunità amiche della disabilità Ed è proprio un'esperienza di mappatura, di vedere quanto i territori, i nostri territori sono capaci di accoglienza e quanto fanno Un'esperienza virtuosa che è nata in questi ultimi mesi è proprio il gruppo di lavoro dell'inclusione È un tavolo di lavoro e di riflessione coordinato da Laura Pesce di FOBAP In collaborazione poi con Anfas, con l'ufficio scolastico territoriale Il nostro comune di Brescia è il centro oratori e il servizio per le persone con disabilità Questo tavolo è un tavolo, chiamiamolo, virtuoso e profetico Perché ha messo insieme questi enti per far sì che possiamo iniziare ad intercettare i bisogni reali delle famiglie Per far sì che le esperienze possano diventare delle esperienze concrete veramente per tutti E il primo frutto di questo tavolo di lavoro è stato proprio la partecipazione dei ragazzi con disabilità Ai nostri Grest cittadini Speriamo che questo tavolo di inclusione che abbiamo creato qui in città Possa diventare un piccolo segno e un'esperienza possibile anche per gli altri comuni sparsi all'interno appunto Della nostra diocesi dove ciò che fa la differenza è la capacità di fare rete, di mettersi in ascolto E di avere il coraggio anche di osare per far sì che le comunità cristiane ma anche le comunità civili E i vari enti, il terzo settore, le associazioni possano intercettare questo bisogno Far sì che i nostri bambini ma non soltanto i bambini anche i ragazzi e gli adulti con disabilità Possano essere parte integrante e protagonisti dei nostri territori e delle nostre realtà Abbiamo parlato dell'estate dei ragazzi, dell'importante opportunità offerta anche nei nostri oratori Che prosegue quindi il nostro viaggio in provincia, la scoperta dei Grest Siamo andati ad angolo terme dove lo stile educativo fa la differenza anche al Grest Camminiamo insieme a te il Signore E sui tuoi passi noi ti vogliamo seguire E sia la tua parola illuminare Il nostro lavoro come cooperativa all'interno dell'oratorio può dare proprio il contributo educativo Quindi quel pezzo in più, quella parte anche un po' più professionale Per riuscire a formare innanzitutto gli adolescenti che fanno d'animazione E quindi diventare un'animazione più strutturata, più preparata e più supportata E contemporaneamente dare anche degli spunti ai bambini Perché sia un'esperienza educativa, una sorta di continuità col percorso che fanno un po' anche a scuola Ma sempre divertendosi e sempre con uno spirito oratoriale Fare questo che è una parte del mio lavoro mi riempie, lo faccio da tanti anni Ma mi riempie di tantissima energia Ecco durante l'estate i bambini e i ragazzi ti ricaricano Ti ricaricano e ti danno voglia di credere nelle nuove generazioni E credere nel fatto che se si mettono dei buoni semi Questi poi nel tempo danno degli ottimi frutti Io ho iniziato il mio percorso da animatrice quattro anni fa E appunto ogni anno decido di prendere ancora questa scelta Soprattutto diciamo per una questione dei bambini Perché io mi trovo molto bene a stare con loro Perché se ci pensiamo alla fine sono delle sorte di anime pure Che comunque ti danno tanto Perché trasmettono molte emozioni anche più amplificate rispetto molte volte ad alcuni adulti E secondo me ti lasciano sempre un segno Se in positivo che in negativo Però per lo più appunto in positivo E ti danno molto Questo è il mio quarto anno da animatrice Ho deciso di rifare questa esperienza Perché è un'esperienza che stimola me come persona Ma anche stimola i bambini Che fanno le diverse attività Che organizziamo Oltre a questo è anche un modo per passare tanto tempo con amici Con ragazzi che poi durante il percorso diventano amici Per creare un gruppo unito e compatto Abbiamo visto l'entusiasmo dei ragazzi al Grest di Angolo Terme Continuiamo a parlare di disabilità Parliamo anche di buone pratiche sul territorio Di comunità accoglienti E' evidente che è un percorso anche di conoscenza Che è in itinere Come sta procedendo E come la comunità può essere accogliente di fatto Le esperienze buone Le belle narrazioni ci fanno bene E stiamo andando anche alla ricerca di queste Anche per avere il coraggio di spostare il nostro sguardo Non soltanto sui problemi che ci sono Ma le belle narrazioni ci aiutano anche a sperare E ad andare avanti E abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo Su tutto il territorio diocesano Appunto l'esperienza del Grest Che è davvero un bel laboratorio di amicizia solidale E di fraternità E ringraziamo specificatamente anche il comune di Brescia La fondazione Bernardi e la centrale del latte Che hanno permesso l'accoglienza di tanti bambini e ragazzi con disabilità Nei nostri Grest cittadini Ma anche tante esperienze dei comuni della nostra diocesi Dove ognuno si è dato da fare Per far sì che ogni Grest potesse accogliere bambini e ragazzi con disabilità Proprio in questi giorni anche a livello diocesano La bella esperienza del fondo RED Grazie alla FISM e alla Congrega della Carità Apostolica Con altri enti che offrono quel piccolo contributo Per permettere ai bambini con disabilità della scuola dell'infanzia E della scuola primaria di poter avere un aiuto in più per il loro cammino Che vuole essere un cammino non soltanto di integrazione Ma siamo chiamati a vivere un percorso Dall'integrazione all'inclusione all'appartenenza Le nostre comunità sono chiamate a fare questo percorso L'integrazione sono i primi passi che compiamo L'inclusione dice forse una piccola esperienza di passività Dove dobbiamo starci tutti E l'appartenenza che fa la differenza E allora sarà bello andare nei territori Andare nelle parrocchie, nelle associazioni Per scoprire queste narrazioni belle che ci sono E sarà bello iniziare a condividerle e a raccontarle Ma non soltanto il successo di un bambino Di un ragazzo con disabilità Ma il cammino che compie e che fa una comunità Questo è ciò che fa la differenza E che dice veramente l'appartenenza Grazie Il commento al Vangelo in questa sedicesima domenica del tempo ordinario È a cura di Monsignor Giovanni Palamini Erano come pecore senza pastore Ascoltiamo il commento al Vangelo di Marco Ecco gli apostoli di Gesù Sono andati in missione Gesù li ha inviati Ora tornano E si ritrovano attorno a Gesù Come prima di inviarli Gesù li ha convocati intorno a sé Per dare loro il mandato Ora di nuovo si raccolgono attorno a Gesù Per restituire ciò che essi hanno fatto come missione Come esercizio di missione E Luca dopo l'invio dei 72 Narra questo ritorno dei 72 Però non degli apostoli Vedendoli tutti felici Perché si sono accorti che Portando il Vangelo di Gesù La parola che essi portavano Davvero raggiungeva ciascuno E era efficace Portava l'effetto Della conversione Della guarigione Ora Tornano questi intorno a Gesù E Gesù Raccontano a Gesù Quello che essi hanno fatto E insegnato Hanno compiuto gesti Ma hanno anche annunciato il Vangelo Tornano Ma Gesù Li vede contenti Ma anche stanchi La missione Effettivamente è impegnativa E allora Chiede loro di riposarsi un poco Venite con me Riposatevi un po' In una zona deserta Dove si possa davvero dialogare Con il Maestro Che è Gesù Con Dio Il Padre Che è con loro Essi vanno Ma Non riescono a riposare Perché la gente Che ha ascoltato La parola Dei discepoli Ora ha bisogno Di incontrare Colui Che essi Hanno annunciato La parola stessa Gesù E infatti Nel brano evangelico Che la liturgia Oggi ci offre Essi Vanno Rincorrono Gli apostoli E Gesù E Gesù Scese dalla barca Dice il testo Vide Una grande folla E nel vedere Coglie Che questa folla Ha bisogno Di lui Ha bisogno Di incontrare lui E allora Ebbe compassione Cioè Ha questo Sguardo di Dio Che legge il cuore Degli uomini E sa Cosa c'è dentro E sa Di che cosa Gli uomini Hanno bisogno E allora Si ferma Con loro E Si mette A rinsegnare Di questo Avevano bisogno E Questa Questa gente Aveva bisogno Della parola Di Gesù Aveva fame Di questa parola Non solo Di pane Ebbene Il discepolo Il cristiano Deve compiere Questi gesti Annunciare Il Vangelo Di Gesù Compiere Le opere Di carità Nei confronti Dei fratelli Ritirarsi Per stare Un poco Con Gesù E fare in modo Che la sua Testimonianza Di vita Porti Al Signore Mai Compiere Qualcosa Per il successo Personale Mai Annunciare La parola Di Gesù Per mostrare La capacità Di insegnamento Ma sempre Per condurre Gli uomini A Gesù Perché Di Gesù Hanno bisogno Noi Siamo strumenti Che annunciano Che Gesù È presente Che si può Incontrare Ma poi Occorre Indirizzare Gesù Lasciare Che i fratelli Incontrino Personalmente Il Signore Colgano La sua Compassione Vedano Il suo Sguardo D'amore Sia questo L'impegno Anche per Ciascuno Di noi Dopo che Abbiamo Ascoltato Questa Parola Uscendo Di chiesa È necessario Aiutare Gli uomini A capire Il perché Noi siamo Stati Con Gesù A capire Dei nostri Gesti Della nostra Parola Il perché Noi siamo Stati Con Lui E condurli A Lui Questo È l'augurio Che io vi lascio E davvero È ciò Che ci insegna La parola Che oggi Ascoltiamo Abbiamo ascoltato Il commento Al Vangelo A cura di Monsignor Giovanni Palamini Vicario Episcopale Per la vita Consacrata Arriviamo All'ultima domanda Con il nostro Ospite Padre Domenico Fidanza Responsabile Del servizio Per le persone Con disabilità C'è in vista A ottobre In preparazione Il primo Convegno Diocesano Sì Sabato 12 ottobre Ci sarà Il primo Convegno Diocesano Della pastorale Delle persone Con disabilità Insieme Pellegrini Di Speranza Sarà presente Con noi Suor Veronica Donatello La responsabile La referente Della pastorale Delle persone Con disabilità Della conferenza Episcopale Italiana Insieme con Il nostro Vescovo Pierantonio E sarà L'occasione Per far sì Che iniziamo A fare Formazione Per le nostre Comunità Per la comunità Cristiana Che stabilisce Contatti e legami Con la comunità Civile Le nostre comunità Hanno bisogno Di un cammino Per far sì Che possano Diventare Sempre più Disponibili E sempre più Accoglienti Perché Il progetto Di vita Riguarda Tutte le persone E questa è Quella Pastorale Del noi Che Papa Francesco In continuazione Ci suggerisce E anche il nostro Vescovo Pierantonio Grazie Alla sua Testimonianza E la sua Riflessione Ci aiuterà A capire Che dall'esperienza Della Bibbia Possiamo Intuire Un tesoro Prezioso Anche Per la pastorale Per la pastorale Del noi Perché Il corpo Piagato Del Signore Risorto Ci fa capire Che il mistero Di Dio Agisce Dentro Tutte le fragilità E poi Sarà bello Per la comunità Cristiana Scoprire Che la persona Con disabilità Non ha soltanto Dei bisogni Che devono essere Soddisfatti Ma la persona Con disabilità È un dono Per la comunità Un dono Per tutti E allora Questo è un cambio Di prospettiva Importante Non soltanto Di cosa Hai bisogno Ma qual è il dono Che tu consegni Alla comunità E allora Il primo convegno Diocesano Ci permetterà Di entrare In questo cambio Di prospettiva Assumendo Un nuovo sguardo L'appuntamento Quindi è per Sabato 12 ottobre Al polo culturale Diocesano La puntata Si può rivedere Sui nostri canali Social E sul sito Lavocciodelpopolo.it La buona notizia Vi aspetta La prossima settimana